Intanto io credo che questa sia una legge che faciliterà invece il ritorno degli elettori al voto perché è molto semplice da capire, perché consente con i nomi scritti sulla scheda di sapere chi si vota, chi viene eletto e quindi avere un rapporto diretto tra eletto e cittadinanza. Poi il ritorno ai collegi, così come era nel Mattarellum, è anche questo un elemento di semplicità, un elemento di riconoscibilità, ognuno nel suo territorio in maniera da essere un rappresentante vero delle esigenze locali e questo è anche un elemento utile per una politica che sia più vicina all'elettore. Poi sulla rappresentanza di genere abbiamo fatto una battaglia come Partito Democratico, sappiamo che è una battaglia fatta da soli in questo, però giusta, abbiamo in questa legislatura riportato molte donne nelle istituzioni, molte donne in politica, il nostro è stato il primo governo nella storia della Repubblica Italiana ad avere un pari numero di uomini e di donne, abbiamo una donna Presidente della Camera, cosa che non succedeva da tanto tempo con la Presidente Boldrini, insomma c'è bisogno del contributo importante delle donne nelle istituzioni, in politica, non solo per lavorare ma anche per poter decidere. Grazie a tutti.